Come Federazione di Bologna siamo orgogliosi di aver potuto ospitare in collaborazione con il Dipartimento Nazionale delle Politiche Agroalimentari questo momento così importante per il nostro Paese ma anche per i nostri territori. Questa è la città in cui l'agroalimentare ha una rilevanza molto significativa, abbiamo il progetto di FICO che a breve vedrà la sua nascita. Per noi questa è un'occasione che serve anche per poter avere qui tanti rappresentanti del Partito Nazionale, il Ministro Martina che da poco arriverà anche perché il domenica 5 giugno andremo al voto per eleggere il Sindaco di Bologna. Noi il Partito Democratico assieme a una coalizione di centrosinistra ricandida il Sindaco in carica, Virginio Merola, che stamattina ha portato il saluto suo e il saluto della città. Siamo consapevoli di aver svolto un buon lavoro nel corso di questi 5 anni e siamo determinati a fare ancora meglio. Vogliamo farlo rilanciando il ruolo di Bologna nella nostra regione a livello nazionale, quindi avere l'opportunità di poter ospitare questi appuntamenti e ci tenga a ringraziare a nome mio e del Partito l'Onorevole Capozzolo per aver scelto Bologna e per aver organizzato questa giornata. Ci dà la possibilità di poter parlare di tematiche che riguardano tutto il nostro Paese e di poter far sì che questa nostra città e questi nostri territori possano essere veramente al centro del futuro dell'Italia. Grazie.